Buongiorno ragazzi, signore e signori, siamo qui a Monte Grotto Terme a Grand Hotel con il gruppo Ferrari. Vi presento i nostri amici che vengono dalla Svizzera Christiane e Christiane che vengono da Svizzera Prima di Lausanne e il mio mario e io i vengono dalla Svizzera Christiane, Christiane, puoi dire a tutti i nostri amici? Qu'est ce qu'il va dire? 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 Manon pose la même question a Liliane e Christiane Alors, pour la deuxième année consécutive, nous avons le plaisir de venir passer une semaine de vacances ici au Grand Hotel Terme Voilà, avec beaucoup de plaisir Très bien, c'est formidable, le service est excellent Bravo! Qui si mangia bene, si sta bene, c'è il sole, comunque si sta tutti bene Grazie! Bravo! Bravo!